Canale YouTube di Luigi Gaglio Le braci di Sandor Marai Ci facciamo aiutare dal blog di Francesco Ongaro nella introduzione a questo romanzo e giustamente lui ha scritto che è bella indovinata l'immagine di un quadro di Klimt sulla copertina un artista che come pochi ha saputo trasporre nella propria opera lo spirito di un'epoca Klimt forse disegnatore più significativo e rappresentativo dell'ultima parte della storia dell'impero austro-ungarico dell'impero austro-ungarico, dell'impero asburgico e questo scrittore è uno scrittore ungherese austro-ungarico, austro-ungherese infatti chi è Sandor Marai? è stato uno scrittore e giornalista ungherese naturalizzato statunitense la sua fama è legata in particolare proprio a questo romanzo Le braci del 1942 apparso in Italia nel 1998 dicevamo per la casa editrice Adelphi e poi per l'altro testo L'eredità di Esther pubblicato nel 1999 che cosa ci dice? leggiamo cosa ci dice Francesco Ongaro su questo romanzo sì alcune informazioni dicevamo essenziali su questo scrittore su questo autore è questo come potete vedere è stato anche il suo capolavoro narrativo questo romanzo Le braci perché è intitolato così? ce lo dice Ongaro un fuoco brucia poche ore e poi si spegne le fiamme si trasformano in braci e lentamente si raffreddano e diventano cenere che il vento disperde le braci conservano il calore delle fiamme la loro forza senza più essere fuoco come ne perpetuassero la memoria il libro di Marai è un libro sulla memoria la memoria del fuoco di una passione che si è spenta trasformandosi in tiepide braci il calore di una passione che avvelena il sangue e acceca la mente il tepore di una rivincita attesa a lungo la memoria come senso di sopravvivenza se stessi al mondo che perde la memoria giorno per giorno e si affida inutilmente agli uomini per recuperarla ecco, è importantissima questa cosa infatti noi vedremo oggi leggeremo un brano proprio di una di una di quei personaggi fondamentali di questo romanzo che proprio rappresenta la memoria rappresenta la storia è il in un certo senso custode della storia ed è questa baglia la vecchia baglia Nini ecco, dicevamo l'importanza della memoria abbiamo già sottolineato più e più volte ad esempio vi ricordate quando primo Levi si ricordava dei versi di Ulisse lì nel campo di concentramento oppure Vanca il povero appunto bambinetto di nove anni sfruttato e maltrattato che ricorda il suo villaggio e il nonno Enric e Conrad sono amici di quelle amicizie che forse solo nei libri si riesce a trovare e amano la stessa donna Cristina che è moglie di Enric opposti sentimenti il tradimento il desiderio la tentazione dell'omicidio poi Conrad sceglie la fuga e due amici rivali si ritrovano a 41 anni di distanza il fuoco della passione è diventato brace alimentata dall'alito dei ricordi di Enric che l'hanno tenuta viva con una cura e attenzione maniacali il tempo trascorso ha cambiato il mondo i volti i suoni gli odori che hanno fatto da sfondo alla gioventù dei protagonisti non esistono più Cristina è morta Enric e Conrad sono superstiti di un'epoca ormai scomparsa la Vienna splendida di fine impero la Vienna di Francesco Giuseppe degli Strauss di Klimt appunto ricordate che la copertina di questo romanzo è proprio fatto con un quadro di Klimt la grande cultura miteleuropea sepolta sotto le ceneri della grande guerra e si accorgono alle soglie di un nuovo sanguinoso conflitto con un senso di smarrimento di stacco che li rende inadatti a tratti patetici a tratti malinconici ostinatamente abbarbicati a una dignità che non hanno più ragione di essere ha senso mantenere accese per tanti anni le bracci delle passioni umane che valgono gli amori e i tradimenti di singoli uomini a fronte delle grandi tragedie dell'umanità intera l'incontro scontro tra Conrad ed Heinrich si tramuta in un lungo monologo di quest'ultimo ci sono domande alle quali non è ancora riuscito a rispondere sono le domande che porrà Conrad l'unico che può scoprire l'ultimo velo poi il tempo proseguirà per la sua strada abbandonando i protagonisti alla loro solitudine al silenzio della morte insomma le braci di Sandor Marai è un libro sulla memoria un libro sulla rivincita e la disillusione un libro sull'orgoglio e la presunzione degli uomini un libro che racconta di come si riesca a sopravvivere incarnandosi nelle proprie ossessioni il brano che oggi leggeremo è un brano che si trova abbastanza all'inizio di questo romanzo ed è incentrato sul personaggio di questa donna questa donna anziana questa balia che è una donna giusta abbiamo studiato ad esempio noi di Giorgio Perlasca un giusto tra le nazioni lo stesso Perlasca ci diceva questa cosa essenzialmente per essere giusti è sufficiente tener fede alla propria umanità e quindi vivere in modo serio il compito che ci è dato nella vita di svolgere il compito che ci è dato di svolgere nella vita ed è quello che fa appunto la protagonista di questo brano Nini nonostante i suoi 91 anni non si fece attendere era in quella stanza che aveva accudito il generale da piccolo dopo averlo visto nascere a quel tempo aveva 16 anni ed era molto bella era bassa di statura ma muscolosa e tranquilla come se il suo corpo fosse a conoscenza di qualche segreto ecco un'immagine una persona una donna che vive la sua vita con serietà che vive fino al fondo il suo compito che vive la sua esistenza senza farsi troppi problemi ma facendo quello che deve fare da sempre da quando era appunto dicevamo una ragazzina fino a quando adesso ancora 91 anni come se nascondesse qualcosa nelle ossa nel sangue nella carne il mistero del tempo e della vita qualcosa che non si può comunicare agli altri e non si può tradurre in una lingua diversa un segreto che le parole non sono in grado di sostenere lei questa donna apparentemente fragile anche per la sua età così avanzata custodisce invece quello che il segreto della vita era la figlia del postino del villaggio aveva partorito un bambino all'età di 16 anni e non aveva mai detto a nessuno da chi lo avesse avuto aveva allattato il generale perché aveva molto latte quando suo padre l'aveva cacciata di casa si era trasferita al castello non possedeva nulla soltanto il vestito che indossava e in una busta una ciocca di capelli del bambino morto fu così che si presentò al castello arrivò al momento del parto il generale succhiò il primo sorso di latte dal seno di Nini come abbiamo visto nel brano il pescatore e il turista di Heinrich Bull ciò che rende una persona felice non è il fatto di avere tante cose di possedere quel pescatore non aveva nulla esattamente come Nini che non ha nulla non possiede nulla eppure è contenta della sua vita perché perché ha risposto in modo affermativo alle sfide della vita e quindi ha fatto quello che doveva fare sempre semplicemente così serenamente come il fatto di fare da balia anche se ha perso il figlio oltretutto si trattava di un figlio che aveva avuto non si sa bene neanche da chi a 16 anni comunque poi ha usato il latte che doveva servire per quel bambino che poi invece è morto per allattare quello che poi sarebbe diventato un generale e là essa visse in silenzio per 75 anni da quel momento in poi non ha fatto altro se non questo servire umilmente obbedire fare fino in fondo quello che le si chiedeva di fare per 70 50 da quando ne aveva da quando ne aveva 16 fino ad adesso che ne ha 91 sorrideva sempre il suo nome volava attraverso le stanze come se gli abitanti del castello si lanciassero un avvertimento dicevano nini ed era come se dicessero è strano al mondo esiste anche qualche altra cosa oltre all'egoismo e la passione oltre alla vanità nini evidentemente è l'incarnazione stessa della serietà della giustizia della coerenza l'esatto opposto di quello che avviene normalmente regolarmente nel mondo dove prevale l'egoismo e nini è l'incarnazione dell'altruismo dove prevale la passione quindi l'istinto nini è l'incarnazione della giustizia della ragione dove prevale la vanità nini è l'incarnazione della modestia dell'umiltà e poiché era presente dovunque ci fosse bisogno di lei non la notavano nemmeno e poiché era sempre di buon umore non le chiedevano mai come potesse essere felice dopo che l'uomo che amava l'aveva lasciata il bambino per il quale era scaturito il suo latte era morto non c'è problema anche se lei aveva perso il bambino aveva perso l'uomo con il quale aveva fatto questo bambino viveva la sua vita serenamente di buon umore comunque sempre allattò il generale e lo allevò poi trascorsero 75 anni tutta la vita di una donna così condensata in questo brano che stiamo leggendo oggi come dire non c'è nient'altro da dire di questa donna se non che ha fatto ha fatto fino in fondo quello che doveva fare adesso per 75 anni non ha fatto altro se non obbedire talvolta tante volte nei testi anche narrativi ci sono personaggi negativi e forse noi abbiamo il gusto tante volte del torbido e invece in questo romanzo vediamo proprio un personaggio che è così puro semplice come questa Nini talvolta sul castello e sulla famiglia splendeva il sole e allora nella contentezza generale ci si accorgeva con stupore che anche Nini sorrideva poi morì la contessa la madre del generale e Nini deterse con un panno imbevuto di aceto la fronte sudaticcia bianca e fredda della morta della morta e un giorno portarono a casa in barella il padre del generale che era caduto da cavallo ma che poi rimase in vita per altri cinque anni fu Nini ad accudirlo leggeva per lui in francese sempre altruista sempre a dare la sua vita per gli altri sempre ad accudire le persone che avevano bisogno come ad esempio la madre e il padre del generale e quindi che ha accompagnato fino alla morte leggeva per lui in francese e dato che era una lingua che non conosceva compitava lentamente una dopo l'altra le lettere di ogni parola quanto bastava perché l'infermo capisse cioè perché il padre del generale capisse che cosa stava leggendo anche se non era capace di leggere bene in francese passarono molti anni il generale prese moglie quando la coppia ritornò dal viaggio di nozze Nini era lì ad aspettarla sul portone del castello baciò la mano alla nuova signora le offrì delle rose anche allora sorrideva ogni tanto il generale ricordava quegli istanti ragazzi sorridente nella vita sempre di fronte a tutti i momenti di fronte a tutte le situazioni disponibile con tutti abbiamo detto con i genitori di questo generale che lei aveva allattato e poi anche con la moglie di questo generale le offrì delle rose anche allora sorrideva ogni tanto il generale ricordava quegli istanti più tardi 12 anni dopo la donna morì e fu Nini a prendersi cura della tomba del guardaroba della defunta al castello non aveva né titoli né ranghi tutti percepivano semplicemente la sua forza il generale era il solo a ricordare distrattamente che Nini aveva già superato i 90 una donna di per sé potrebbe sembrare molto fragile ma se è una persona tutta ad un pezzo come questa Nini in realtà è molto forte perché sa quello che vuole della vita perché la forza non si misura lo vedremo l'anno prossimo con Don Rodrigo non si misura nei titoli che uno ha lei non ha nessun titolo Don Rodrigo si i promessi sposi vedremo che apparentemente fu apparentemente forte quel Don Rodrigo in realtà è un personaggio debole e lo mostrerà in svariati momenti del romanzo soprattutto quando sarà minacciato dal Fra Cristoforo quando sarà minacciato dal Fra Cristoforo esatto anche Don Abbondi era un personaggio debole senza altro invece Nini è un personaggio forte a dispetto del suo aspetto così gracile nessun altro sembrava esserne consapevole aveva più di 90 anni eppure solo il generale era consapevole di questo degli altri Nini sembrava quasi eterna una persona eterna perché quasi non ci si rendeva conto che era arrivata fino a quell'età la forza di Nini dilagava per tutta la casa attraversando le persone i muri gli oggetti come la corrente elettrica che sul piccolo palcoscenico dei teatrini ambulanti mette in moto di nascosto le marionette il pro dei Giovanni e la morte a volte si aveva la sensazione che la casa e gli oggetti sarebbero caduti a pezzi se la forza di Nini non avesse tenuto insieme tutto quanto così come i tessuti molto antichi si polverizzano e si dissolvono se qualcuno li sfiora all'improvviso quando sua moglie morì il generale si mise in viaggio fece ritorno a casa a distanza di un anno e si trasferì immediatamente nella vecchia ala del castello nella camera di sua madre fece chiudere l'ala nuova dove aveva vissuto insieme alla moglie i saloni variopinti dove le tappizzerie di seta francese cominciavano ormai a sfaldarsi l'ampio studio con il cammino e i libri la scalinata con le corna di cervo gli urogalli impagliati e le teste di camoscio imbalsamate la grande sala da pranzo dove attraverso le finestre lo sguardo spaziava sulla valle sulla cittadina e sui monti lontani di un azzurro argenteo le stanze occupate dalla moglie e accanto a queste la propria camera da letto voleva farne a meno voleva vivere da un'altra parte voleva dimenticare totalmente appunto quello che era stato tutto ciò che gli ricordava la moglie da 32 anni da quando la donna era morta e il generale era tornato a casa dal suo viaggio all'estero Nini e la servitù erano gli unici a mettere piede in quelle stanze quelle stanze che erano le stanze del matrimonio insomma con le quali nelle quali aveva vissuto insieme con la moglie una volta ogni due mesi quando facevano le pulizie siediti Nini disse il generale la balia si sedette nel corso dell'ultimo anno era invecchiata superati i 90 si invecchia in maniera diversa rispetto a quanto avviene dopo i 50 o i 60 si invecchia senza risentimento il volto di Nini era rosio e grinzoso invecchiano così i tessuti di gran pregio le sete vecchie di secoli in cui un'intera famiglia ha profuso la sua abilità manuale intessendole di tutti i suoi sogni durante l'anno passato si era ammalata di cataratta un occhio ed era diventato grigio e spento quell'occhio l'altro occhio era rimasto azzurro dell'azzurro dei laghetti d'alta montagna sotto il sole d'agosto e quest'occhio sorrideva è bellissimo ragazzi vedere queste persone io ne conosco una che ha più di 90 anni ma che vive con una grande riconoscenza ormai in un certo senso aspetta di compiere l'ultimo passo del suo pellegrinaggio così ad esempio dice un certo Ratzinger ha scritto sul Corriere della Sera in questi in questi ultimi tempi o comunque vive la propria vita ormai contenta di aver vissuto tutto quello che poteva quindi con grande riconoscenza vive ogni giorno in più che è concesso e quest'occhio sorrideva Nini indossava un abito scuro sempre lo stesso gonna di panno blu scuro e corpetto dello stesso colore come se non si fosse mai fatta confezionare un altro abito nel corso dei 75 anni trascorsi ha scritto Corrad disse il generale e sollevò in alto la lettera con gesto ricordate infatti che Corrad è uno dei due protagonisti del romanzo Le Braci ricordi si disse Nini ricordava tutto è in città disse il generale alla balia sottovoce come se stesse comunicando una notizia molto importante e riservata ha preso alloggio all'Aquila Bianca verrà qui stasera ho mandato la carrozza a prenderlo a prenderlo ce n'era qui qui dove chiese tranquillamente Nini e girò intorno lo sguardo azzurro sorridente del suo unico occhio vivo e abbiamo detto l'inizio del romanzo da questo ritorno di Corrad si scateneranno i ricordi e quindi i flashback quando lui si troverà insomma con l'altro amico nemico insomma da vent'anni non ricevevano ospiti i visitatori che si presentavano ogni tanto verso l'ora di pranzo i rappresentanti della provincia e le autorità cittadine gli ospiti della grande battuta di caccia venivano ricevuti dall'intendente della tenuta nel casino di caccia in mezzo al bosco dove ogni cosa era pronta per raccogliere gli ospiti in tutte le stagioni le camere da letto le stanze da bagno la cucina la grande sala da pranzo per i cacciatori la veranda l'aperto in queste occasioni l'intendente sedeva a capotavola intratteneva in rappresentanza del generale i cacciatori o i personaggi ufficiali ormai nessuno si offendeva più perché tutti sapevano che il padrone di casa era invisibile il parroco era l'unico a recarsi al castello una volta all'anno d'inverno quando scriveva col gesso le iniziali dei nomi di Gaspare Melchiorre Baldassarre sull'architrave della porta d'ingresso i nomi dei tre remagi il parroco che aveva seppellito i diversi membri della famiglia nessun altro ormai da vent'anni si può dire in quella casa non c'erano stati più ospiti nell'altra ala disse il generale si può attenzione quell'altra ala è proprio quella parte di quella casa in cui lui aveva vissuto i suoi pochi anni di matrimonio con la moglie che poi era morta si può deve chiedere il generale a Nini perché lui non c'è più ritornato in quella parte della casa abbiamo fatto le pulizie un mese fa disse la balia si può per le otto di sera è possibile domandò eccitato con curiosità un po' infantile si sporse in avanti sulla poltrona nella grande sala da pranzo adesso è mezzogiorno mezzogiorno disse la balia in questo caso provvedo subito farò aerare i locali fino alle sei poi farò apparecchiare la tavola le sue labbra si muovevano in silenzio come se stesse contando calcolava il tempo la quantità dei compiti da eseguire si disse infine con calma e fermezza ragazzi perché un mio collega ha scelto questo brano e legge questo brano a tutte le sue classi tutti gli anni per questo si che Ninì ha detto con calma e fermezza questo mio collega spesso dice che questo si è in un certo senso simile ad un altro si che ha detto una donna semplice umile sicuramente la moglie quando quando ci sposa senz'altro oppure Maria quando ha detto il suo semplice si all'angelo è insomma tutto condensato nella vita di questa balia in questo essere pronta dire sempre il suo si con calma e fermezza ed è infatti così che termina il brano che abbiamo letto oggi con questo si è il si davanti alla vita che lei dice sempre altri video didattici su a tuttascuola.it